La giornata mondiale dell'alimentazione quest'anno assume un rilievo particolare innanzitutto perché siamo in piena effetti ancora dell'invasione russa dell'Ucraina con tutti i problemi legati alla disponibilità di prodotti alimentari e soprattutto di cereali, l'Ucraina e la Russia sappiamo quanto importanti sono nel commercio mondiale, quindi una giornata che deve farci riflettere sul tema cruciale della sicurezza alimentare globale. L'Europa sta facendo la sua parte ma non basta, per questo è importante ricordarlo proprio oggi nel dare il benvenuto alla giornata mondiale dell'alimentazione e ricordarci quanto importante sia avere un settore agricolo forte, resiliente e sia capace di produrre il cibo cui oggi c'è bisogno, soprattutto in un momento così difficile per l'economia, così difficile per riuscire a stare dietro ad una domanda che purtroppo in questo momento a causa della guerra sta vivendo momenti molto difficile. Con questo auguro a tutti una buona giornata dell'alimentazione e la speranza che questi venti di guerra finiscano presto. Mi chiamo Martín Hlaváček e sono cittorio dell'alimentazione e l'alimentazione europea nell'alimentazione europea. nel mondo, non essere svolgente nei teritori di un'economia, e questo è proprio quello che fao e il suo programma di vivito a lungo tempo. Rado che spero di farlo tutto meglio nel prossimo giorno di vivito. Il che è per me il Dio Mondiale della Alimentazione? È il giorno che ci ricorda la importanza, la necessità urgente di trasformare i nostri sistemi alimentari. In un mondo in cui 820 milioni di persone passano fome e più di 2,3 milioni di persone vivono in insegurazione alimentare, non fare nulla non è opzione. Modar sta nelle mani di tutti e di tutti noi, e può essere già oggi, nelle nostre casas, nella luta contro il desperdice alimentare. Se sappiamo che un quarto dei alimenti che desperdiciamo poteva acabar con la fome global, di che stiamo all'espera? Alimentazione è un diritto umano. Luttare per questo diritto è un diritto di tutti. Il World Food Day ci rende un giorno di tutto questo. Il World Food Day ci rende una cosa che mi piace solo come le mie le mie città, se anche i miei amici. Il il nostro lavoro di tutti i nostri amici. Il il nostro lavoro di tutti i nostri amici è per noi. Il ciò che ha di avere un amici e un amici. Il amici di quello di amici di amici. Lassi noi noi per tutti i nostri amici. Non solo per noi, ma anche per noi.